amici 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 e amiche 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 di facebook ben ritrovati un'altra volta a questa speciale video dedica bene adesso andiamo ad accontentare l'amico ciro scognamiglio che ci ha richiesto il pezzo di pino a daniele il cui titolo è io per lei che è dedicato alla sua ragazza che si chiama giulia vai a regia e forti con la base musicale grazie 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 bene con questo pezzo di pino a daniele è andato anche l'amico ciro scognamiglio e io vi vorrei ricordare il mio nuovo sfondo che porterò per tutta l'estate Summer Village Tour 2009 dove mi vedrete sulle vostre spiagge insieme agli amici di Stranimazione gli amici di Radio CRC da Gato Italia gli amici di Contatto Television gli amici di Napoli e gli amici di Notte Esclusive che vi faremo a divertire che ho avuto anche un po' di siti di questi amici quello di Stranimazione www.stranimazione.com quello di Radio CRC da Gato Italia e www.crc.it quello di Contatto a Television e www.contatto a television.tv poi la Stranimazione c'è anche un MySpace www.myspace.com slash Stranimazione poi quello di Napoli www.napoliwitheme.com e quello di notte esclusive www.nottiesclusive e vi do anche dei numeri dove chiedere un po' di info 346 049 6088 e poi 081 571 1969 ok? Ciao 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 e alla prossima videotelica